Ciao a tutti! Oggi vi voglio presentare una ricetta che fa parte delle tradizioni del nostro territorio e della nostra cultura. Oggi facciamo un sughetto come si fa veramente, come si faceva veramente fino a qualche anno fa e che in molte parti del mondo, in tutto il mondo, in pratica tutti fanno. Ci mettiamo le zampette di pollo, questa zampetta che ho in mano in particolare, queste zampette, adesso prendo anche l'altra, queste zampette sono di un pollo naturalmente che io ho preso, ho la fortuna di avere vicino a me, della campagna dove veramente vengono allevati ancora all'aperto, stava lì e correva questo pollo che tra l'altro pesava 3,8 kg. Con queste zampette io andrò a fare un delizioso sughetto, un sughetto ricchissimo di collagene, super nutriente, super saporito e fa anche molto bene ogni tanto integrare nell'alimentazione queste parti più particolari perché regalano, vi assicuro, molte sorprese. Prepariamo insieme un buon sughetto come si faceva tanti anni fa. Prepariamo insieme un buon sughetto come si faceva tanti anni fa. Prepariamo insieme un buon sughetto come si faceva tanti anni fa. Prepariamo insieme un buon sughetto come si faceva tanti anni fa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.